Sarebbe stato un sorpasso azzardato quello che ha provocato la morte del giovane meccanico comisano Michele Colombo di 23 anni. Proprio Michele, alla guida della sua Fiat Punto, ieri sera intorno alle 20.30 sulla strada che collega Comiso a Chiaramonte, avrebbe tentato il sorpasso di un SUV sul quale viaggiava una donna di 51 anni, anche lei rimasta gravemente ferita. Subito dopo il sorpasso, Michele si sarebbe trovato di fronte ad un tir proveniente dal senso opposto, da Chiaramonte a Comiso, e l'impatto è stato fatale. Si tratta della strada provinciale 7, all'altezza di Unico Mobili. Sul posto sono subito accorse le pattuglie della stazione dei carabinieri di Comiso, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. A nulla sarebbero però serviti i tentativi dei medici di rianimare il giovane. L'impatto è stato violentissimo. Michele è morto qualche secondo dopo. Restano gravi le condizioni della donna, che intanto è stata trasferita con urgenza al Giovanni Paolo II di Ragusa, dove oggi i medici hanno confermato che non rischia la vita. Illeso il camionista, che nel tentativo di evitare in extremis l'impatto, ha terminato la propria corsa contro un cancello a bordo strada. La strada è rimasta chiusa per diverse ore e di tre e mezzi coinvolti, come da prassi, sono stati sequestrati per ulteriori indagini.